ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube volete diventare ricchi volete farlo facilmente bene guardate questo video non è vero vi farò conoscere comunque dei metodi che vi danno la possibilità di lavorare spendendo poco nell'acquisto dei prodotti quindi farò vedere diversi articoli che mi hanno mandato da temo anzi a proposito questa è una collaborazione con tempo mi hanno chiesto se volevo fare un video per farvi conoscere i loro prodotti mi hanno detto di scegliere con un budget di 200 euro e ho scelto i prodotti che secondo me sono adatti per i laboratori di fai da te per chi si diverte a montare e smontare per chi ha l'incisore laser e vuole incidere eccetera ma anche strumenti di precisione tra l'altro mi hanno dato anche il codice di sconto che apparirà qua in sovraimpressione se cliccate anche sul link giù inserite questo codice di sconto insomma avrete 100 euro di risparmio sui vostri acquisti ora vediamo quello che mi hanno mandato ragazzi sono davvero delle cosine ghiotte che costano poco e che scherzando scherzando se le utilizzate con l'incisore laser ma anche in casa per fare manutenzione eccetera vi permettono o di guadagnare o comunque di risparmiare per vivere delle cose da soli ora guardiamo quello che mi hanno mandato e valutiamo insieme questi prodotti iniziamo e allora queste volte prodotti sono davvero tantissimi questi voglio lasciarli per ultimo è un set molto ricco mettiamolo da parte ve lo faccio vedere fra poco come vi dicevo sono prodotti destinati al fai da te all'incisione laser strumenti di precisione eccetera svuotiamo capovolgendo il tutto svuotiamo anche questa perché qua dentro ci sono gli strumenti di precisione che sono i primi e voglio farvi vedere questo è un calibro allora innanzitutto abbiamo diversi comandi accensione e spendimento però come vedete l'accensione è anche automatica premendo questa levetta si può azzerare ovviamente abbiamo la possibilità di misurare con molta facilità e molto velocemente lo utilizziamo in questo modo e sappiamo che questo pezzetto di legno è 7 mm e abbiamo la possibilità di misurare velocemente e passare anche da un punto all'altro dello stesso pezzo per esempio facendolo scorrere per vedere se ci sono delle irregolarità questo per me è uno strumento molto pratico che mi tornerà molto utile quando utilizzerò l'incisore laser e non solo e in plastica se fosse stato in metallo sicuramente sarebbe stato meglio se premete da questa parte come vedete nel risente perché il pistoncino si rientra ma se voglio maggiore precisione c'è un altro sistema che mi permette di essere molto più preciso di tutto quello che vedete ovviamente vi lascerò i link per poterlo acquistare quindi vediamo come funziona quest'altro strumento come vedete qua è posizionato su zero abbiamo questa lancetta quello era digitale questo è analogico facciamo la misurazione anche così 7 mm quindi anche in questo modo saremo molto veloci per prendere le varie misurazioni e vedere quale sarà lo spessore del pezzo che dobbiamo incidere abbiamo anche la possibilità di bloccare il pistoncino e eventualmente mantenere una misura fissata sul quadrante in modo da non perderla questo è fatto molto meglio e questo è metallo poi a proposito di fai da te che va benissimo anche per l'incisione laser abbiamo questo sistema che ci permette di levigare le superfici in modo diverso da come siamo abituati perché questo è flessibile in realtà ce n'erano disponibili diversi tipi però io ho scelto di prendere solo questo perché penso che uno sia sufficiente ovviamente vengono date anche dei pezzi di carta abrasiva che si attaccano con il velcro come vedete essendo flessibile mi permette di fare dei lavori di levigatura e mi evita di andare a scavare in alcuni punti utilizzando questo in questo modo io riesco a lavorare tranquillamente e pulire la bruciatura molto velocemente vado così e riesco a lavorare e carteggiare tutti i vari punti molto molto facilmente e in dotazione troviamo tantissimi fogliettini di carta abrasiva dalla più grossa alla più fine ma continuiamo a svuotare questi sacchettini adesso abbiamo sul bancone quello che secondo me può essere utilissimo chiunque abbia un incisore laser perché mi sono fatto mandare per esempio questi portachiavi che sono ovviamente in ecopelle hanno questo sistema anche per nascondere all'interno un air tag e come vedete si possono incidere e ottenere questi risultati sia con il laser a dio dove con il laser a fibra co2 eccetera ho fatto diversi portachiavi tanti li ho già dati costano poco e vi danno la possibilità di vendere un portachiavi di questo tipo anche a 5 euro ciascuno sono disponibili in diverse colorazioni io ho scelto questo tipo cuoio che secondo me è il più bello ma non ho preso solo questi ho preso anche quelli in metallo solo quando mi sono accorto che hanno in realtà già un incisione con una scritta che riguarda l'amicizia nella parte opposta però sono liberi quindi io cosa ho fatto li ho cancellati quindi con l'incisore laser a fibra anche se c'era la scritta sono riuscito a rimuoverla in questo caso ho ottenuto questa finitura quindi posso incidere un luogo una scritta quello che voglio e da questa parte poi posso incidere essendo totalmente vergine il luogo le scritte che voglio io come ho fatto da questa parte con il luogo arley davidson e da questa parte dopo avere cancellato l'incisione che già troviamo presente ho inciso di nuovo il luogo arley davidson ma cercherò un link nel quale non ci siano già le incisioni fatte e anche questi possono essere venduti a circa 5 euro ciascuno ma non mi sono fatto mandare solo queste cose perché come vedete qua abbiamo questi portachiavi che hanno un anellino una parte in similpelle e poi una parte in legno è possibile incidere e devo dire che qualitativamente sono fatti davvero molto bene mi piace il materiale mi piace la finitura quindi si prestano benissimo per esempio per qualche concessionaria ma anche per eventuali bnb per hotel e quindi fare un bel portachiavi spendendo relativamente poco il guadagno diventa l'importante ora vi faccio vedere un altro articolo bello da incidere quindi si tratta di anelli anche questi possono essere venduti molto facilmente se personalizzati quindi immaginate la parte superiore incisa con il logo motociclistico con le iniziali di una coppia di fidanzati o quello che si vuole sono in metallo sul sito sono disponibili diversi colori io ho scelto di prendere quelle di colore nero colore argentato e anche il colore dorato ovviamente avete anche la possibilità di scegliere le varie misure vi faccio vedere l'ultimo articolo che riguarda diciamo le personalizzazioni quindi il capriccio di avere qualcosa di personalizzato è una freschetta per poter mettere all'interno li cuori eccetera io ho messo l'amaro del capo non si vede benissimo perché ho sbagliato le impostazioni si apre come tutte le fiaschette di questo tipo girando la parte superiore che tra l'altro oppure inciso abbiamo la guarnizione all'interno viene venduta all'interno di una scatolina in cartone ed esistono anche di diverse dimensioni qua mi sto accorgendo che c'è un colpo quindi si è mancata vabbè può succedere comunque per quanto riguarda il prodotto lo sto utilizzando da un po di tempo mi sto trovando bene mi sarebbe piaciuto però se fosse stata tutta in acciaio lucido siamo arrivati ai prodotti che possono essere utili per poter guadagnare rivolgendosi ai ristoranti agli alberghi bnb ma anche concessionarie eccetera allora qua abbiamo tutti questi portachiavi sono davvero tantissimi con diverse forme diverse dimensioni ve ne faccio vedere solo qualcuno e questi tra l'altro me ne avete già visto incidere perché comunque queste confezioni le ho da un po di tempo sono dei portachiavi in legno anche questi devo dire effettivamente eleganti fatti bene se non sbaglio e faggio e in base alla potenza dell'incisore laser si può ottenere anche una bella scavatura e si possono incidere sia da un lato che dall'altro così come si possono incidere questi sottobicchieri da proporre eventualmente ai locali o anche per personalizzarsi lì sono dei sottobicchieri a forma di puzzle con la personalizzazione incisa anche questi sono stati tagliati al laser come si vede da questa leggerissima bruciatura che abbiamo sul bordo però mi aspettavo che questi costassero un po di meno sono belli sono fatti bene però effettivamente non costano poco come gli altri infatti ne ho presi solo due e a proposito di sottobicchieri ho preso pure questi in ardesia e come vedete l'incisione bene benissimo e si ha la possibilità quindi di personalizzarne tanti e servire clienti che ne vogliano un grande numero così come si possono personalizzare questi altri sotto bicchieri e questo tipo di legno essendo comunque tenero si scava facilmente quindi l'incisione viene più profonda rispetto al legno normale per quanto riguarda la finitura abbiamo il bordo comunque smussato e in dotazione all'interno della confezione ci sono pure questi piedini adesivi per ammortizzare però vi avevo detto che alla fine avrei lasciato qualcosa che secondo me è davvero molto utile un piccolo aspiratore aspirapolvere che io sinceramente ho utilizzato finora in macchina all'inizio e per svuotare l'incisore laser a co2 dei piccoli detriti che si formano sia in plexiglass pezzettini di legno eccetera con questo che è dotato anche di filtro abbiamo la possibilità guardate aspira davvero benissimo con una gran bella forza abbiamo la possibilità di rimuovere tutte le sporcizie pulisco per bene il filtro vi faccio vedere sia quando sia potente che le varie funzioni che possiamo avere questo può sia aspirare che soffiare infatti all'interno della confezione troviamo questi beccucci che vanno messi nella parte posteriore sì perché soffiando in questo modo se noi accendiamo guardate questa è la pressione minima e si vede sulla mano quanta forza quanta aria fuoriesca ma se premo di nuovo guardate riusciamo riusciamo a soffiare via la polvere da alcuni punti per esempio all'interno di computer eccetera e si può anche rimuovere questa parte in modo di avere il flusso d'aria ancora maggiore quindi muoverci più comodamente in alcuni punti vabbè ma vi faccio vedere anche l'aspirazione questo è il soffiaggio quindi lo rimuovo e guardate quanta sporcizia ci sia e come riesca a pulire ve lo faccio vedere cambiando inquadratura così lo vedete meglio allora sparpagliamo un pochettino la sporcizia questo va messo ovviamente con il verso giusto se dovete aspirare verso il basso altrimenti potete anche girarlo in modo che potessi aspirare anche verso l'alto ma guardiamo come funziona sia con la minima potenza che con la massima potenza quindi manteniamo premuto parte come vedete si alza anche la valvolina che non fa tornare indietro la sporcizia e in questo modo sta aspirando senza nessuna difficoltà riesce ad aspirare tranquillamente anche i pezzi di legno ma se io voglio utilizzare la potenza più alta guardate avete visto come si apre e richiude la valvolina quindi evita che la sporcizia quando la muovete caschi di nuovo fuori perché spesso succede di pulire per esempio se dire l'automobile si finisce si solleva e poi tutta la sporcizia ricade poi anche altri accessori ci permette di raggiungere punti più difficili secondo me è comodissimo tra l'altro batteria ricaricabile tramite cavo usb di tipo c e ora passiamo al pezzo forte quindi questo set da 118 pezzi comprende cacciaviti vari materiali piattini magnetici eccetera certo per fare un po di manutenzione sicuramente non sono adatti all'officina quindi estraiamo tutto il raccoglitore che tra l'altro mi è già caduto due volte non una ben due volte e si è disordinato un po tutto anzi devo dire nemmeno tantissimo abbiamo degli inserti nella parte frontale per poter estrarre gli inserti basta girare in questo modo e tirare l'inserto che ci interessa ce ne sono davvero tantissimi con tanti tipi di intaglio in realtà andrebbero provati un po tutti per vedere qual è la qualità di questi inserti così a colpo d'occhio sembrano fatti bene però poi sarebbero da provare e da provare a lungo questo è un magnetizzatore de magnetizzatore vi faccio vedere mettiamo questa vita e da questa parte prendiamo un cacciavite in questo modo è magnetizzato quindi riesco a sollevare però se io lo metto nel de magnetizzatore faccio in questo modo e prova a sollevare il cap la vita con la punta cacciavite non si solleva più quindi adesso non si solleva io cambio idea e adesso voglio invece che si sollevi quindi lo metto all'interno lo muovo un pochettino e adesso si solleva allora questo è un cacciavite philips semplicemente a croce per quanto riguarda il manico abbiamo questa parte nera in gomma questa parte rossa invece in plastica con il foro anche per appenderli e queste bussole solo che sono in pollici questo è un quarto di pollici fate attenzione quando scegliete perché rischiate di ordinarli in pollici e queste sono delle brugole che già dal peso si capisce che sono molto economiche anche queste in pollici associato ovviamente a quelle con misura metrica partono millimetro e mezzo e arrivano a 6 poi abbiamo anche questo tipo di chiave che serve per abitare e svitare in questo modo ed è presente di due misure quello più grande e quello più piccolo stesso sistema cambia solo la misura adesso guardiamo questi più piccoli allora abbiamo punte torx e poi ovviamente ci saranno le punte piatte le punte a stella che ci danno la possibilità di fare manutenzione su computer su orologi su occhiali eccetera la parte posteriore che va a contatto con la mano rimane ferma invece questa parte è libera di ruotare e quando mi è caduto ecco si è staccata questa parte risolto si era semplicemente sfilata adesso è come tutti gli altri questo invece è un cacciavite a cricchetto si utilizza in questo modo per abitare la nostra vita e faremo semplicemente questa rotazione e andremo verso destra anzi in realtà in questo modo stiamo svitando se vogliamo abitare basta spostare questo selettore dal lato opposto e riusciremo ad abitare semplicemente facendo in questo modo ma è possibile anche bloccarlo mettendolo in posizione centrale così avremo cacciavite bloccato che ci darà la possibilità di ruotare verso destra o verso sinistra escludendo il cricchetto e nel complesso diciamo come cacciaviti sono economici senza dubbio costa super giù 50 60 euro considerate state pagando la media di 50 centesimi a cacciavite e la qualità nel complesso diciamo non mi dispiace sicuramente ripeto sono dei cacciaviti economici però per fare lavoretti in casa manutenzione possono andare bene nel complesso anche per quanto riguarda gli strumenti di misurazione quindi i calibri che abbiamo da questa parte ragazzi secondo me vanno benissimo e questi all'interno del laboratorio per fare misurazioni veloci sono più che utili ovviamente non sono di qualità professionale però vi permettono di fare tantissimi lavoretti risparmiando basta sapere scegliere detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace cliccando qua sul pollice analizzò cliccate anche sulla campanella dopo essere iscritto ci vediamo tutti i prossimi caricamenti ciao da riccardo ea presto